Buongiorno a tutti, scusate, mi scuso con tutti voi, con la fondazione, con tutti gli ospiti per questo arrivo così trafelato, ma sono partito all'alba da Rovereto e hanno sospeso, cancellato tutti i treni ad alta velocità da Bolzano, perché c'è stata un po' di neve, è una piccola frana, quindi l'Italia è un paese che si lascia sorprendere dal fatto che piove e nevica alla metà di novembre, diciamo. E allora, io ho questo compito difficile di provare a difendere almeno un lato dell'ignoranza. Lo farò da evoluzionista, il mio mestiere è quello di studiare l'evoluzione e la filosofia della scienza. Gli evoluzionisti studiano questo meraviglioso processo, questa grande avventura che in tre miliardi e mezzo di anni ci ha portato dall'ameba a Donald Trump. E' così, no? Giusto? E' successo questo. Poi lascio a voi decidere se questo è un progresso o meno. Però diciamo che noi evoluzionisti tendiamo a osservare i processi in chiave evolutiva, in chiave di cambiamento. E allora a proposito di ignoranza, a me piaceva cominciare da una citazione che ho sempre trovato bellissima, di Karl Popper, che è stato uno di, insomma, un grande filosofo austriaco, lavorava alla London School of Economics, è stato uno dei padri fondatori della mia disciplina, la filosofia della scienza, lui diceva sempre che la vera ignoranza è quella di chi si rifiuta di sapere, non è quella di chi non sa. La vera ignoranza è quella di chi mette in atto dei meccanismi per i quali diventa per lui o per lei impossibile imparare, conoscere cose nuove. E lui diceva che questo rifiuto del sapere, che è la vera ignoranza, può avere origini più diverse. L'abbiamo sentito, se ne è parlato molto anche ieri, può essere l'indifferenza, semplicemente non avere gli strumenti per poter acquisire nuove conoscenze, può anche essere dovuta a interesse. Il già citato Donald Trump dice che il riscaldamento climatico è una costosa balla, è una costosa menzogna, ama ripetelo su Twitter, ma sa benissimo che è una balla, mente sapendo di mentire, perché basta guardare i documenti originali, adesso sono desecretati, li potete leggere tranquillamente, del Pentagono, dei suoi generali, e se andate a guardare il documento dove c'è l'elenco delle principali minacce agli Stati Uniti, la prima naturalmente è il terrorismo internazionale, ma al secondo posto c'è una cosa che loro stessi chiamano climate change. Lo sanno benissimo, giustamente, perché il climate change è un grande processo destabilizzante che genera migranti ambientali, che crea conflitti, che destabilizza i paesi, e quindi diventa una minaccia anche per gli Stati Uniti, quindi lo sanno. Questo può essere una fonte ovviamente dell'ignoranza, le fake news danno grandi vantaggi economici per chi le promuove, ricordiamoci che c'è anche questo nell'ecosistema del digitale. Poi, diceva Popper, si può rifiutare il sapere, e quindi essere davvero ignoranti nel senso cattivo del termine, perché si è vittime di un'ideologia, perché c'è qualcuno che ci ha indottrinato e ci ha fatto capire già, fin dall'inizio, dove sta il nero e il bianco, dove sta il giusto e lo sbagliato, non abbiamo più bisogno di imparare, non abbiamo più bisogno di avere dubbi, c'è qualcuno che ci ha già detto tutto, e questa è l'ignoranza nemica della libertà, e aggiungere anche, visto che siamo a Science for Peace, che questa è l'ignoranza che genera conflitto, perché queste ideologie, quando tu hai ragione per definizione, l'altro da te diventa automaticamente un nemico, e non più soltanto un interlocutore. Quindi l'ignoranza è davvero anche una delle radici della guerra e dei conflitti. E poi c'è un'altra ragione per cui possiamo rifiutare di conoscere, e che è quella di cui avete discusso tanto ieri, quindi io non ci torno su, ed è il fatto di vivere in un contesto, in una nicchia digitale, in cui tutti sono pieni di certezze. Io quando vado online e leggo i commenti e le discussioni, sono tutti sicuri, sono tutti pieni di certezze, la sanno tutti lunghissima, e ovviamente se tu sei pieno di certezze, dell'altro devi soltanto sospettare, devi sospettare qualsiasi cosa dica. E questa è una dinamica assurda, perché non è il vero dubbio. Il dubbio è di chi accetta l'altro con beneficio di inventario, e cerca di metterlo in discussione, ma mette in discussione principalmente i propri convincimenti, dialogando con l'altro. E quindi preconcetti, pregiudizi, le echo chambers e così via, che oggi proliferano su web. E quindi si crea questa situazione, in cui secondo me voi studenti dovreste lavorare tanto, visto che ci vivete dentro. Come ha detto anche il nostro Presidente della Repubblica, tra l'altro due settimane fa, è un bellissimo intervento. Al Quirinale ha detto, oggi viviamo in una situazione paradossale, in cui possiamo essere ignoranti in un mare di informazioni. Siamo circondati di informazioni, siamo ignoranti. E questo è un paradosso, però un paradosso interessante da studiare. In fondo, questo è un rischio che anche gli scienziati qualche volta accorrono, perché a volte ci sono nella storia della scienza dei momenti in cui tu, come scienziato, sei pieno di informazioni, pieno di dati che ti arrivano, ma non riesci ancora a interpretarli, non hai le domande giuste per capirle. Quindi anche nella scienza bisogna stare attenti all'eccesso di informazione che non sia mediata, che non sia interpretata da buone domande di ricerca. Quindi non basta la quantità nella scienza, ci vuole anche la creatività, la qualità. E così arrivo all'altra ignoranza di cui parlava Popper. Popper diceva che c'è un'ignoranza buona. Qual è l'ignoranza buona? L'ignoranza generativa? Beh, l'ignoranza generativa è di chi è convinto ancora di non sapere tante cose, no? Però questo, vabbè, è socratico, lo sappiamo da tanto tempo. In realtà nella scienza però succede qualcosa di un pochino più preciso. Cerco di dirlo proprio in due minuti. Tu nella scienza, se pensate a come funziona il metodo scientifico, ti puoi trovare in diverse condizioni insieme. Da un lato sai di sapere tante cose, no? È quella che noi chiamiamo la background knowledge. Cioè, quando io inizio una nuova ricerca, la baso su una montagna di conoscenze, di sforzi, di lavoro, che hanno fatto tutti i miei colleghi scienziati prima di me e insieme con me. Quindi io so di sapere tante cose. Quindi parto da un insieme di conoscenze che ho accumulato. Perché la scienza progredisce, no? Umberto Veronesi era molto affezionato a questo fatto che c'è un progresso nella scienza. Però nello stesso tempo in cui faccio questo come scienziato, so anche che non so tante cose. Però state attenti, il sapere di non sapere implica che tu abbia gli strumenti per capire che non sai le cose. Non è banale, lo diceva prima Carlo Arbetto Reti. Se tu sei così ignorante, non avere gli strumenti nemmeno per sapere e capire di essere ignorante è un disastro, no? Invece, se tu sai di non sapere, è perché hai gli strumenti per capire che ti mancano ancora un sacco di conoscenze. Qualche esempio nella scienza. In biologia, noi sappiamo che non conosciamo la stragrande maggioranza delle specie che vivono sul pianeta Terra. Ne abbiamo battezzate due milioni, secondo i calcoli ce ne sono almeno otto, nove milioni, quindi siamo ignoranti, molto ignoranti, ma sappiamo di essere ignoranti, abbiamo gli strumenti per saperlo. Oppure pensate agli esopianeti, questi meravigliosi sistemi, ne conosciamo ormai a migliaia che ci sono su altri sistemi planetari, a sistemi stellari. Noi sappiamo di non sapere tantissime cose su quell'argomento. Chissà quanti altri ce ne sono, chissà se su alcuni c'è la vita. Sappiamo di non sapere, sappiamo di essere ignoranti su questo. Questo è tipico, è il cuore della scienza. Però io vorrei farvi vedere che in realtà c'è un'altra ignoranza ancora che è bellissima nella scienza, che è quando uno scienziato si accorge addirittura che non sapeva di non sapere. Cioè quando uno scienziato, ed è uno dei momenti più belli del metodo scientifico, scopre un dato, gli viene fuori qualcosa che gli fa capire che nemmeno immaginava di non sapere un sacco di cose. Questa è una cosa molto bella che succede nella scienza, nel mio campo di studi, fino a dieci anni fa, noi non ci immaginavamo neanche che sulla Terra, per dire, fino a cinquanta millenni fa esistevano cinque specie umane diverse. Ma proprio non era neanche nell'anticamera del nostro cervello, perché proprio lavoravamo su un modello, su un paradigma diverso, e non ce l'aspettavamo. Davamo per scontato delle altre cose. E poi invece la realtà ci ha sorpreso, le evidenze ci hanno sorpreso. Abbiamo dovuto cambiare completamente il nostro approccio. O pensate ai fisici, che qualche anno fa hanno scoperto che tutto quello che avevano studiato fino a qualche anno fa era soltanto il 5% di tutto quello che esiste nell'universo, perché il 95% è energia e materia oscura che non sappiamo bene che cosa siano. Non è uno straordinario esempio di ignoranza, ma è un'ignoranza generativa, meravigliosa, perché si sono accorti i fisici che non sapevano di non sapere un sacco di cose, in particolare il 95% di quello che esiste nell'universo, che non è poco. Giusto? Però cosa vuol dire quella scoperta di quell'ignoranza lì? Vuol dire che adesso ci sono un sacco di nuove domande di ricerca, che scopriremo un sacco di cose nuove, proprio perché ci siamo accorti che non sapevamo di non sapere. Questa cosa che vi ho detto è imparentata a quella che si chiama serendipità nella scienza, cioè il fatto che tu molto spesso sulla base di quello che sai già vai alla ricerca di qualcos'altro e poi la natura ti sorprende perché ti fa scoprire quello che tu non stavi cercando. E molto di quello che avete sentito questa mattina, il gene editing, queste nuove terapie, molto spesso si basano su delle scoperte fatte in ambiti di ricerca pura, fatte da biologi, da studiosi che non stavano certo cercando quello ma che stavano cercando tutt'altro, stavano studiando che ne so, le difese immunitarie dei batteri contro i virus e si scopre che lì c'è una forbice molecolare che si può usare per fare tutt'altro. E questa è la serendipità meravigliosa della scienza, che non vuol dire, state attenti, puro caso, non è che allora la scienza è una scoperta per caso che ti arriva lì, no, perché come diceva già Pasteur, in realtà la serendipità si alimenta e funziona solo se tu hai la mente aperta, se tolleri l'errore, se non sei troppo focalizzato, se lavori insieme con gli altri scienziati. La comunità, l'Unione Europea ha finanziato un grande progetto due anni fa per cercare di capire che cosa favorisce la serendipità a un gruppo inglese e sapete cosa hanno scoperto? Che uno dei fattori fondamentali che favorisce la creatività scientifica è quando su un problema scientifico lavorano scienziati di discipline diverse, la serendipità si moltiplica, perché? È facile da capire, no? Perché se tu guardi la stessa cosa ma con linguaggi, sguardi, punti di vista diversi, è molto più facile che qualcun altro colga un aspetto che per te che sei troppo focalizzato non appare e quindi anche l'interdisciplinarità alimenta tantissimo questa bellissima cosa, che c'è nel metodo scientifico. Però diciamo che filosoficamente tutto quello che vi ho detto è un mistero poi fondamentalmente, cioè che noi studiamo, conosciamo un sacco di cose, ma la natura alla fine è molto più grande della nostra immaginazione, è molto più grande di quanto non possiamo nemmeno immaginare. Quindi chissà quante cose scoprirete voi che noi nemmeno possiamo prevedere e immaginare. Ho iniziato con Popper, chiudo con Popper. Popper diceva la scienza è un'impresa ardita, audace, che si alimenta di errori, ma è generativo l'errore perché tu te ne accorgi e ne fai tesoro. La scienza si basa su predizioni rischiose, diceva Popper. Io faccio una predizione e poi qualcun altro può andare a controllarla ed eventualmente smentirmi. E come diceva Galileo Galilei, già è un bellissimo passo in una lettera, lui dice lo scienziato è come un pescatore che getta una rete nel mare e tira su delle cose. Ovviamente la rete l'ha fatta lui, quindi lui ci ha già messo dentro la sua teoria. Però poi quando tiri su succede che a volte la natura ti sorprende e a volte ti risponde di sì perché conferma quello che tu avevi in mente. Qualche volta ti risponde di no perché smentisce il tuo esperimento, ma il bello, dice Galileo, è quando la natura ti risponde dipende. Quando la natura ti risponde dipende vuol dire che non sei sicuro di essere nel giusto, ma magari stai scoprendo qualcosa d'altro che nemmeno ti aspettavi. E quindi il bello secondo me del metodo scientifico è proprio questo, che è un processo di crescita della conoscenza che progredisce, aumenta sempre di più. Lo diceva prima Carlo Alberto Reti, pensate a quanto quanto meno di oggi sapevamo anche solo dieci, quindici anni fa anche per esempio in ambito di terapie oncologiche. Quindi chiaramente la scienza è cumulativa, è un progresso, ma la magia è proprio questa, riesce a essere cumulativa, ad andare avanti attraverso la critica, attraverso il dubbio, attraverso lo scetticismo sistematico, ma argomentato, cioè sulla base di argomenti, di prove. Quindi con questo continuo antagonismo per cui gli scienziati si mettono in difficoltà gli uni con gli altri, si criticano, si controllano, a vicenda si correggono, si autocorreggono, la conoscenza aumenta sempre di più. e succede questa cosa straordinaria, per esempio nel mio campo di studi nell'evoluzione è palese, per cui tu più cose scopri, più quello che hai scoperto apre nuovi punti di domanda, nuovi interrogativi, nuove incertezze, nuove domande alle quali non sappiamo rispondere. Non so, perché gli esseri umani come noi, Homo sapiens, sono rimasti l'unica specie umane sulla Terra? Dieci anni fa era una domanda senza senso, se uno studente l'avesse fatto al suo professore universitario diceva ma cosa stai dicendo? È ovvio, oggi non è più ovvio tant'è che non sappiamo rispondere, è una nuova domanda, si è aperta una nuova linea di ricerca, dobbiamo adesso capire come fare rispondere a questa domanda. Enrico Bellone, un grande storico della scienza che è scomparso qualche anno fa, diceva sempre che proprio per questo i grandi scienziati sono sempre inquieti, non so se l'avete mai, leggete le cronache delle biografie, sono inquieti, Galileo era inquieto, Darwin era un uomo inquieto, tormentato, ansioso di conoscere, capiva che non gli bastava una vita per riuscire a scoprire tutto quello che voleva scoprire. E allora chiudo con una cosa controcorrente, qui so che andrò controcorrente perché lo so che potrei sembrare antiquato, però rispetto a tutto quello che ho cercato di raccontarvi in pochi minuti adesso, cioè la vertigine bellissima del metodo scientifico, a me andare sui social network e ascoltare, leggere tutte quelle discussioni in cui sono tutti, vogliono tutti avere ragione, sono tutti pieni di certezze, a me quella roba lì mi dà una noia mortale, è noiosissimo, a parte il fatto che hai l'impressione di perdere un sacco di tempo, ma proprio mi annoio, evidentemente è un problema mio e ovviamente non posso andare contro questo perché voi siete cresciuti in quell'ambiente lì, mia figlia, mio figlio sono cresciuti, miei figli sono dentro quel mondo lì, quindi è il loro ambiente, ci stanno dentro, però mi piacerebbe che si creasse non un conflitto intergenerazionale, ma almeno un'alleanza, un dialogo in modo da rendere quel posto lì dove voi state così tanto tempo e starete così tanto tempo un po' più civile quanto meno, cioè rendere un po' più sano, un po' più creativo è un po' più simile per quanto possibile al metodo scientifico, quindi io non so se tra un secolo ci saranno ancora i social network come li conosciamo oggi, sicuramente no, avremo scoperto un sacco di cose nuove, però sono pronto a scommettere che il metodo scientifico invece ci sarà ancora, sarà lì questa avventura meravigliosa della mente umana, di donne, di uomini che si mettono lì, fanno fatica, scoprono delle cose con quattro soldi perché poi non si diventa ricchi facendo gli scienziati, ma poi trovando anche in modo serendipico e imprevedibile delle applicazioni che si possono applicare per la salute, per il benessere di tutti quanti, quindi dico una cosa veramente controcorrente, io penso che i social network come stanno diventando oggi rispetto alla bellezza della scienza ormai sono già una cosa vecchia, vecchissima, bisogna andare avanti e fare una nuova ecologia dei nuovi media che assomigli il più possibile all'originalità creativa del metodo scientifico e vi ringrazio. Grazie.